Ciao e benvenuto nel video di presentazione del percorso di coaching formativo chiamato Fitness Positive Leader, un approccio umanistico per un benessere organizzativo Prima di addentrarci negli argomenti è importante rispondere a due domande La prima è, perché si chiama percorso di coaching formativo? E la seconda, perché lo definiamo benessere organizzativo? Ora ve lo spiego Viene definito percorso di coaching formativo in quanto non è un corso Ma è proprio un percorso che include tre step fondamentali Il primo è la formazione, dove acquisirai nuove conoscenze personali e nuove competenze professionali Il secondo step è l'allenamento, dove metterai in pratica quanto acquisito nei giorni formativi E lo svolgerai nella vita quotidiana Il terzo step è il coaching, che è un incontro one to one con me, dove valuteremo insieme i risultati che hai ottenuto E quali sono i progetti di sviluppo che vuoi attuare Ora definiamo il benessere organizzativo Siamo in una situazione di benessere organizzativo Quando tutti i soggetti appartenenti all'organizzazione trovano piacere nello svolgere la propria attività In quanto il loro lavoro è espressione di se stessi E questo fa sì allora che la leadership positiva è quella che permette Attraverso le sue relazioni produttive ed il valore d'uso dei suoi prodotti La crescita del benessere di tutti i partecipanti alla relazione Gli argomenti che affronteremo possiamo suddividerli in 5 macro-arge La prima, la leadership positiva La seconda, la cultura aziendale La terza, i follower La quarta, sono i clienti E la quinta, è il prodotto Ma andiamo a conoscere assieme quali sono i dettagli Nel primo capitolo dedicato alla leadership Andremo innanzitutto a studiarne il fenomeno sociale Successivamente vedremo le differenze tra le leadership negative e la leadership positiva Dopodiché andremo a costruire la tua leadership positiva Il secondo capitolo è dedicato alla cultura aziendale E qui andremo innanzitutto a creare la tua cultura aziendale Dopodiché andiamo a capire che cos'è il pensiero creativo Andiamo a vedere la differenza tra obiettivo risultato e obiettivo performance E alla fine capiremo come creare un piano di azioni Nel terzo capitolo dedicato ai follower Andiamo innanzitutto a vedere la differenza tra follower negativo e follower positivo Andiamo a studiare i 5 step relazionali E andiamo ad allenarci all'ascolto attivo Nel quarto capitolo dedicato ai clienti Andiamo a capire che cosa vuol dire cliente coproduttore A definire che cos'è la qualità complessa E andiamo a vedere la differenza tra una comunicazione con il cliente E una relazione con il cliente Nel quinto capitolo dedicato al prodotto Andremo a vedere che cos'è un prodotto scardinante Che cos'è un infoprodotto E come creare una campagna di web marketing Grazie a questo video hai scoperto che cosa si intende per percorso di coaching formativo Qual è il concetto di benessere organizzativo E gli argomenti che tratteremo Ora voglio mostrarti quali sono le qualità personali E le competenze professionali che sarai in grado di acquisire con questo percorso Il primo step è quello che tu possa trovare la strada per autorealizzarti come persona Facendo sì che tu possa seguire la tua vocazione e le tue motivazioni Espresse tramite le tue potenzialità Il secondo step è quello di far sì che tu ti possa autorealizzare professionalmente E questo verrà fatto creando la tua cultura aziendale Che sarà lo specchio della tua vocazione, della tua motivazione e delle tue potenzialità Nel sistema simbolico lavoro Successivamente andrai a definire degli obiettivi performance E una strategia di azioni per raggiungerli Il terzo e ultimo step è quello di poter acquisire le competenze Per creare un benessere organizzativo Ma non finisce qui Perché una volta concluso il percorso Potrai allenarti nel tuo contesto lavorativo Mettendo in pratica quanto hai acquisito Potrai così raccogliere i feedback positivi Scoprire possibili ostacoli O ideare progetti di sviluppo Bene, dopo 15 giorni di allenamento Avrai a disposizione una sessione di coaching one to one con me Così da poter valutare quanto è accaduto E creare un progetto di sviluppo che punti all'eccellenza Bene, quindi abbiamo definito che il fitness positive leader È un percorso di coaching formativo Suddiviso in tre step Un primo step di formazione Un secondo step di allenamento E un terzo step di coaching Gli argomenti che verranno trattati Sono divisi in cinque macro aree La leadership La cultura I follower I clienti E il prodotto Il risultato Sarà quello di acquisire La strada per un'autorealizzazione Personale E professionale Ed acquisire le competenze Per creare un benessere organizzativo Ora Non mi resta che ringraziarti Per avermi seguito in questa presentazione E ti invito a compilare il questionario Che trovi qui sotto Che ti può aiutare a capire ancora di più Se questo percorso di coaching formativo Può esserti d'aiuto Grazie